La grotta Giusti nasce contemporaneamente alla scoperta della grotta, circa 160 anni fa. È una villa d'epoca, Domenico Giusti, il padre del famoso poeta Giuseppe Giusti, aveva la proprietà di questa cava di calce in cui venne scoperta la grotta. Nello stesso periodo aveva costruito questa villa che era diventata appunto la residenza estiva del famoso poeta Giusti. La villa principalmente si compone di un corpo centrale che è annesso poi a quella che è la spada. Ha un grandissimo parco secolare. Noi abbiamo 64 camere, le tipologie di camere sono 5, sono la Junior Suite Vista Parco, la Junior Suite Vista Monte, la Camera Deluxe, la Camera Elegance e la Camera Comfort. La dimensione delle camere è una dimensione legata a quella che sono gli ambienti della villa, quindi sono camere di modeste dimensioni, molto bene arredrate, curate in ogni particolare e mantenute in linea con quello che è lo stile dell'albergo. In alcune di queste camere abbiamo la possibilità, grazie all'impianto storico costruito nella villa ai tempi, di avere l'acqua termale direttamente nella vasca da bagno. In questo modo è possibile effettuare un bagno termale durante l'orario di apertura delle terme anche all'interno della propria stanza. Oltre agli ambienti principali ci sono tanti piccoli ambienti che permettono di rendere ancora più particolare quella che è la villa. C'è un piccolo angolo fumo riservato ai nostri ospiti, di fronte al quale si trova una cantinetta con una selezione di vini molto importanti. Abbiamo una vasta selezione di degustazioni per i nostri ospiti, fino a 25 diverse selezioni legate anche a quelle che sono poi le prelibatezze del territorio, quindi ai famosi maestri cioccolatieri del territorio, al food che comunque abbiamo nella zona. Oltre ai servizi interni all'albergo Grotte Giusti offre anche due servizi sportivi che sono il campo da tennis e il grande campo da golf che è qua a due chilometri di distanza. È un percorso golf di 18 buche, internazionale, molto tecnico, però molto bello perché offre dei scenari che sono quelli tipici dell'ambiente toscano, molto bello per chi poi ci va a giocare. Siamo in un'altra delle tre strutture del gruppo STB, Grotte Giusti, che unisce le caratteristiche tipiche di uno stabilimento termale con le acque di sorgente che scorgono a 35 gradi, ma dove l'elemento peculiare, l'elemento particolare di specificità unico al mondo è questa grotta naturale, una grotta dove è possibile fare un bagno di vapore in concentrazione e insaturazione totale di vapore a una temperatura di circa 39 gradi. È un'esperienza unica, irripetibile. Le indicazioni sono sostanzialmente per l'apparato respiratorio, per chi soffre di patologie allergiche, per esempio asma allergica, orinità allergica, sinusite allergica. È possibile addirittura fare delle immersioni, ovviamente non a scopo terapeutico, ma a scopo ludico-culturale. È possibile fare dei percorsi molto lunghi, ovviamente in compagnia di guide specializzate, quindi anche per persone principianti che non hanno mai avuto esperienze di diving, la possibilità di esplorare in assenza di gravità e in assenza di scambio termico, perché è praticamente la stessa temperatura del corpo, in un ambiente unico e irripetibile. Abbiamo un parco piscine aperto, dove ci sono alcune zone esclusive per gli ospiti dell'albergo, percorsi di idromassaggio. Abbiamo un'acqua carbonato-calcica solfata e anche leggermente salsa, quindi un'acqua molto particolare, la temperatura è intorno ai 35 gradi. Le indicazioni principali sono per l'apparato muscolo-scheletrico, quelle dell'apparato respiratorio e quelle di pertinenza, diciamo, torino-laringoiatrica. I trattamenti che effettuiamo a Grotta Giusti sono trattamenti tipicamente, tradizionalmente termali, che sfruttano il mezzo naturale termale, l'acqua, la grotta in particolare, i fanghi. C'è tutta una serie di professionalità e di multidisciplinarità, come la fisioterapia, la massofisioterapia, l'estetica applicata, la cosmetologia termale, la dietologia, le tecniche di rilassamento, l'attività fisica, il movimento. In particolare a Grotta Giusti ci occupiamo della prevenzione, del trattamento, delle problematiche legate all'invecchiamento patologico. Nel programma Longevity, così si chiama, è probabilmente l'unico esempio di applicazione di medicina predittiva e preventiva in una struttura complessa come quella termale. Per quanto riguarda la ristorazione di Grotta Giusti, è una parte importante del nostro servizio. Il nostro chef Giuseppe Argentino è alla continua ricerca di piatti che possano soddisfare i nostri ospiti. Il buffet, il giorno a pranzo, è un buffet molto ricco e oltretutto include piatti che possono essere anche adatti per le persone che hanno qualche intolleranza alimentare. Abbiamo anche una selezione importante di menù legati alla cucina vegetariana o vegana, per cui siamo in grado di soddisfare, partendo dalla cucina tipica toscana, ogni tipo di altro tipo di cucina. Grazie per la visione!